ciao ragazzi e ciao ragazzi eccoci qui con il nostro secondo video dedicato ai segni di terra al toro e alla verdine al capricorno per l'oroscopo esoterico ed iniziatico per il mese di giugno 2020 iniziamo con gli arcani maggiori cerchiamo di vedere quali energie influenzeranno le prossime settimane e quali messaggi le carte vogliono veicolare per i segni di terra allora eccoci qui vediamo un pochino cosa abbiamo allora ci troviamo in una condizione di sacrificio volontario involontario che sia anche subito però siamo lì immobili a testa in giù una condizione di perdita c'è qualcosa che stiamo comunque disperdendo una situazione di appesantimento e comunque impossibilità di muoverci in che senso non si può progredire andare avanti se non utilizzando le proprie gambe e dov'è che siamo bloccati proprio lì allora carissimi segni di terra considerate che l'appeso nel suo significato è una carta molto molto particolare cioè nell'appeso c'è la possibilità stessa di risolvere la propria situazione così come c'è la possibilità stessa di abbracciarla totalmente e condannarsi a reiterare sempre lo stesso meccanismo in che senso immaginatevi l'appeso come un daltonico viene al mondo in un certo modo quando apre i suoi occhi lui vede il mondo come gli altri e non sa di trovarsi in una posizione differente da quella degli altri ora una verità assoluta all'esterno non esiste però in una situazione in cui ci sono tante persone vince la versione della massa vince la versione dei più così come per i colori noi non abbiamo la certezza che i nostri occhi vedano bene e quelli di un daltonico vedano male però essendo noi di più stabiliamo determinate regole queste regole servono a rapportarsi con il mondo quindi se il daltonico attraversa confondendo un colore pure facendo le stesse cose che fanno gli altri cioè passando sulle strisce pedonali può essere investito quindi ha lo stesso comportamento degli altri ma un risultato differente così è per l'appeso l'appeso non sa di trovarsi in una posizione non sbagliata in assoluto ma comunque diversa dagli altri quindi investe sulla realtà che ha intorno così come fanno tutti però mentre gli altri tornano indietro determinati risultati a lui torna indietro tutto il contrario cosa fa l'appeso allora a un certo punto comincia ad arrabbiarsi con il mondo il problema il contesto il problema sono gli altri il problema è sempre ciò che al di fuori di noi purtroppo non è così solamente dopo tanti sacrifici sofferenze e anche errori l'appeso inizia a mettere in dubbio se stesso cade in una prima forma depressiva si butta giù ma buttarsi giù paradossalmente la liberazione per lui solo quando per il troppo soffrire l'appeso scioglierà questo cappio o solo quando un evento esterno anche traumatico farà sì che qui avvenga comunque un taglio sarà costretto a sbattere la testa ma solo allora potrà testare le sue idee sul mondo e solo allora potrà poi alzarsi riposizionarsi in una condizione corretta vedere la realtà per come la vedono gli altri e riuscire a rapportarsi con essa in maniera positiva e costruttiva quindi non è per dire cari segni di terra che l'appeso cioè voi in questo momento siete sbagliati non è questo è che potreste trovare grande aggiovamento in questo mese dal mettere in dubbio il vostro punto di vista sulla realtà dal provare a cambiarlo integrarlo con altri punti di vista c'è grande energia grande forza e anche questa carta ci conferma il fatto che se le cose non vanno bene il cambiamento dovrà essere voluto cercato è anche forzato a volte cosa si fa forzando lo vuol dire che si va ad interferire rispetto a un ordine già dato delle cose perché se questa è la posizione corretta in cui vi trovate in questo momento per potervi capovolgere dovete comunque fare uno sforzo a cosa vi porterà tutto ciò a un grandissimo lavoro interiore qui si tratta quindi di sbloccare qualcosa che ha a che fare con l'interiorità questo liquido che vedete a parte che richiamare i sentimenti è pur sempre il contenuto di un contenitore scuro buio l'interno dell'anfora è un po come l'interiorità del nostro corpo della nostra testa della nostra pancia che si tratti di pensieri che si tratti di sentimenti stiamo lavorando con ciò che scorre dentro di noi e lo dobbiamo rimettere in movimento condividendo dando e allo stesso tempo prendendo ma non rimanendo immobili quindi queste sono innanzitutto delle indicazioni generali per iniziare a parlare dei segni di terra vediamo un pochino cosa ci vogliono dire le carte iniziando dal segno del toro prepariamo la nostra carta del toro la posizioniamo qui e vediamo quale messaggio c'è per il segno del toro allora viene ribadito il concetto di dover prendere una decisione o di trovare quanto meno conciliazione d'armonia abbiamo due cavalli bellissima questa carta che richiama tanto il guerniga di picasso abbiamo un tredici che anche il taglionetto della morte una morte rinascita abbiamo una carta che esprime anche un evidente stato di tormento interiore quindi vi confermo ulteriormente che per il segno di terra del toro questa scelta già anticipata dagli arcani maggiori a che fare con qualcosa che inerisce all'interiorità dovete evidentemente riuscire a conciliare tanto le motività con la razionalità quanto il desiderio con il dovere dovete recuperare lo spirito puro e ingenuo anche un pochino infantile del bambino che sa comunque alleggerire le situazioni e sa interpretare la vita come un gioco e non perché la interpreti come un gioco la rende meno seria assolutamente perché quando si partecipa ad un gioco lo si fa con piena coscienza e ogni mossa che viene fatta è studiata per poter giungere ad un risultato che sia un risultato vincente però non c'è tempo di tergiversare quando si gioca e soprattutto quando si gioca con altri perché gli altri vorrebbero batterci sul tempo nelle scelte che fanno e poiché uno dei problemi evidenziati dagli arcani maggiori è rimanere in quella zona di comfort che in realtà è una zona di sconfort se mi passate il gioco di parole il tempo la tempistica è una discriminante molto importante per voi in questo mese quindi ricordate che se volete progredire e procedere è necessario conciliare non le modalità di azione di mente e cuore scusatemi perché ognuno ha i propri modi di approcciarsi alla realtà i propri metodi ma è il fine che deve essere lo stesso la finalità c'è una grandissima forza dentro di voi solo che questa forza non gestita non educata potrebbe diventare comunque un suo movimento caotico quindi potrebbe portare grande confusione ma soprattutto agitazione ed abbiamo detto si tratta di un'agitazione interiore dovete avere il coraggio di guardare in faccia la vostra forza ed essendo poi il leone anche simbolo stesso del coraggio paradossalmente dovete avere la forza di risvegliare il nostro coraggio non possiamo rimanere lì ad aspettare che siano gli eventi ad imporsi lo abbiamo già detto perché solamente scegliendo in maniera libera saremo anche responsabili di tutto quello che seguirà da quella nostra prima scelta e non subendo il destino non potremo lamentarci come faremo nella condizione dell'appeso l'appeso che non si muove può solo che lamentarsi del contesto qui abbiamo invece un appeso che è tornato libero che per quanto possa apparire simile a un matto dei tarocchi perché tormentato e quindi in piedi che si muove sì ma spinto dal tormento è pur sempre un uomo libero con tutte le limitazioni del caso con tutta la fragilità umana ma la libertà la libertà di sbagliare e di avere autocoscienza del suo errore caro toro mi viene richiesto un sacrificio fatto con amore e anche qui ci ricolleghiamo al messaggio degli arcani maggiori dove la scelta del cuore la scelta dell'amore farà sì che qualsiasi cosa voi decidiate di fare anche quella che potrà essere interpretata come la più riprovevole dal prossimo avrà invece un valore inestimabile quando questa donna entrò con il suo olio profumato che aveva anche un costo molto elevato per ungere e idratare i piedi di gesù tutti rimproverarono gesù per averla lasciata agire lo rimproverarono dicendo ma non sai qual è il valore di quell'olio il costo quanto può valere quest'olio e tu lasci che questa donna lo sperperi lo sprechi così ma lui cercò di far capire povero profeta inascoltato che l'atto d'amore che questa donna aveva compiuto asciugando poi anche con i suoi capelli i piedi aveva un valore maggiore inestimabile rispetto all'olio stesso e che il vero senso delle azioni non è dato da ciò che vediamo come risultato cioè dal fatto che possano andare a buon fine o possano fallire ma dall'intenzione che le muove quindi anche se siete diti, tubanti e vorreste prevedere prima l'esito della vostra scelta in realtà verrete giudicati non per aver superato la prova dal destino ma dal modo in cui vi sarete predisposti ad affrontarla e il vero valore delle cose non ha nulla a che vedere con l'apparenza delle stesse questo è il messaggio per il toro per il mese di giugno 2020 passiamo adesso alla nostra vergine cambiamo il nostro testimone mettiamo questa bellissima carta e vediamo cosa le carte vogliono dire al seno della vergine abbiamo appena smarrito una carta a terra che cercheremo di recuperare subito e inizieremo proprio da quella vi chiedo solo un attimo di attesa e il tempo di recuperare la carta allora cosa abbiamo per la vergine? bellissima carta venuta fuori già ieri per il segno del leone anche qui come per il nostro toro e come per il messaggio iniziale degli arcani maggiori il protagonista assoluto è il cuore questo cuore che si trova incastrato, incastonato, ingarbugliato irretito da tanti pensieri anche qui c'è poco margine d'azione e come avevamo visto nella carta degli amanti all'inizio quelle mani chiuse e concerte sul petto sembrano mettere a tacere la voce ritmica di questo cuore che tra una sistole e una diastole cerca di farsi sentire è un alfabeto morse proprio come l'alfabeto morse luce e buio è una sorta di telegrafo bisogna imparare ad interpretare e tradurre questo codice segreto che è quello dei vostri sentimenti questa è forse la prova più importante in questo mese di giugno per voi della vergine dovete avere il coraggio di sintonizzarvi con la vostra frequenza interiore prestare orecchio e tradurre quello che questo cuore vi vuole comunicare vediamo perché probabilmente avete vissuto degli episodi che vi hanno fatto dubitare molto di persone care conosciute amicizie va detto però che il vostro sesto senso già da qualche giorno da qualche settimana relativamente a questa persona nello specifico aveva cercato di avvisarvi con delle sincronicità con delle situazioni particolari qualcosa avevate già realizzato ma avete voluto comunque sfidare il vostro sentire e metterlo in dubbio per dare fede alla persona che vi era dinanzi ora purtroppo che la realtà vi ha mostrato quanto il vostro sentire più intimo fosse nel giusto non potete neppure prendervela troppo con la persona che vi ha tradito che vi ha ferito che vi ha offeso perché voi stessi avreste potuto evitare questa situazione quindi vi sentite in parte anche colpevoli quantomeno vi sentite complici perché si tratta di una situazione sicuramente voi riuscirete a contestualizzarla meglio perché questa pur sempre una lettura generale che adesso avrà delle conseguenze per il futuro qualcosa si è inclinato in maniera irrecuperabile almeno da qui al futuro prossimo vediamo perché cosa è accaduto c'è stato un grande senso di delusione profondo 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 però sono convinta e lo riparisco che il segno della Vergine più che avercela con l'altra persona perché poi la Vergine ha anche la capacità di non puntare troppo sugli altri non che non li consideri assolutamente ma è uno di quei segni di terra in particolar modo proprio questo segno che cerca di non solo controllare ciò che accadrà quello che accade oggi e quello che potrebbe accadere anche fra mesi e mesi ma cerca di far sì che tutto dipenda nel bene e nel male da se stessi si affida poco agli altri non per mancanza di fiducia ma proprio perché ha imparato che è il dare fiducia a tutti che ci espone poi al rischio come già accaduto di essere traditi e poi non possiamo fare nulla perché siamo stati noi ad aprirci al dialogo con l'altro alla collaborazione ad appoggiarci ecco perché per esperienza voi della Vergine preferite prendere sulle vostre spalle totalmente le responsabilità che riguardano voi e le persone a voi care soprattutto se si tratta di familiari genitori o figli e adesso la lotta è veramente interiore perché state cercando di capire effettivamente cosa volete voi dalla vita e perché nonostante questa profonda consapevolezza alla fine abbiate ceduto abbiate deciso di esporvi e abbiate ricevuto dalla vita la risposta che già conoscevate quindi cosa è accaduto avete fatto tutto voi avete fatto tutto voi e la delusione che ora sperimentate ahimè è tutta dentro di voi l'altra persona neppure si rende conto di avervi deluso e forse mai riuscirà a rendersene conto perché non capirà nulla da voi voi non vi esprimerete non vi arrabbierete non recriminerete niente in questo mese di giugno rendetevi conto che il vostro cuore sta cercando di entrare in contatto proprio con voi perché vi siete chiusi troppo chiudendovi agli altri vi siete chiusi anche a voi stessi vi siete buttati giù è come se vi sentiste mortificati ma mortificati da voi e per voi ecco cercate di nella vostra chiusura non chiudervi totalmente all'interiorità questo è ciò che dovete salvare in questo mese di giugno 2020 bene passiamo al segno del capricorno cosa aspetta al segno del capricorno ecco la nostra bellissima carta cosa vogliono comunicare le carte per il capricorno oggi le carte saltano e quelle che saltano le prendiamo sulla fiducia allora come direbbero gli spagnoli mi querido capricornio stai per raccogliere a piene mani i frutti del tuo duro lavoro te che spesso abbassi la testa per guardarti i piedi o meglio per capire bene se poggi su solide basi la stabilità è fondamentale solo quando la base ormai è certa possiamo provare ad arrampicarci ed ecco un albero ben radicato che ha tanti rami folti alti ed accoglienti ma che prima di crescere in superficie ha comunque sviluppato le radici nella profondità sei molto ancorato in questo momento più che mai cosa accade in questo mese senti comunque la necessità di aprirti ed ecco che stai offrendo come un seme vuoi attirare l'altro perché hai il desiderio di entrare in contatto in comunicazione hai questo desiderio di tendere la mano di essere afferrato ma non riesci comunque a muoverti perché qual è stato non l'errore qual è stata l'ingenuità nel tuo radicarti non ti sei reso conto che hai immobilizzato la parte che avrebbe dovuto aiutarti a spostarti quindi tu adesso sei profondamente combattuto perché ora che è nato in te il desiderio di muoverti non lo puoi fare perché sei ancoratissimo troppo e quindi è così che cerchi di richiamare l'altro di fare che sia l'altro a venire verso di te infatti sei lì con questa rosa in mano con questo seme in mano stai dando qualcosa di tuo all'altro e ti dirò questo comportamento per le persone che ti conoscono sembrerà particolarmente strano e non ti crederanno subito diranno come mai non mi chiede qualcosa come mai non cerca di di venire a prendere qualcosa come mai mi sta porgendo la mano un dono senza dire nulla senza prima spiegare il perché il per come come mai quest'uomo questa donna mi sta cercando ecco sappiate che non per sfidusa ma semplicemente per essere stati abituati in maniera totalmente differente le persone a voi care ma anche le persone che amate non vi prenderanno subito seriamente non vi daranno subito retta anzi vi guarderanno un pochino titubanti e cercheranno di capire cos'è che volete in cambio purtroppo fraintenderanno e quella mano aperta per donarsi verrà intesa come una mano che chiede qualcosa perché sono purtroppo abituati a vedere questo questo non vuol dire che il capricorno sia avido e non dia prima ben si prenda per poi tutt'al più restituire non è quello è che il contatto lo avete sempre cercato quando è stato veramente necessario quando è che si tende una mano per ricevere quando si chiede l'elemosina leggete tra la metafora ovviamente non vorrei mai offendere nessun segno e men che meno il capricorno segno meraviglioso è per farvi capire voi siete molto rigidi tutti tutti di un pezzo quella rigidità è comunque forza però è anche immobilità quindi le altre persone quelle che avete intorno vi vedono forti invincibili intoccabili e non necessitanti di nulla quindi vedere la vostra mano tesa come prima idea fa sorgere il pensiero che cerchiate qualcosa mentre voi state donando la mano è vuota perché state donando voi stessi ed è questa la cosa che manderà in confusione le persone intorno a voi quindi non capiranno subito la vostra richiesta e soprattutto le persone a voi più vicine non prendetevela se non sarete presi subito in considerazione assolutamente non prendetevela se verrete addirittura rimproverati vediamo un pochino perché prendiamo un'altra carta la situazione sta cambiando e state cambiando anche voi sono proprio i desideri interiori che mutano e avete tanto desiderio di uscire fuori dalla solitudine nella quale vi siete rinchiusi negli ultimi anni perché come dicevamo all'inizio qui il lavoro interiore del capricorno abbraccia anni non settimane e mesi il problema è che purtroppo non si può capovolgere una situazione in un attimo è un lavoro lungo che chiederà passo passo tanti piccoli cambiamenti e dovrete essere voi a compierli perché solamente dimostrando di essere persone diverse non perché prima foste sbagliati assolutamente ma per avere indietro dagli altri un comportamento differente dovete effettivamente mostrare agli altri il vostro di atteggiamento differente rispetto al passato voi state attraversando in questo mese una trasformazione radicale che potrebbe addirittura portarvi a mutare verso il vostro opposto ad alleggerirvi talmente tanto da non essere più albero e radice ma essere in realtà ali uccelli farfalle una qualsiasi forma di vita molto più leggera libera dinamica veloce voi sentite questo desiderio non volete essere più radice voi volete essere ramo volete essere un qualcosa che pur rimanendo fermo immobile attiri le altre persone è tutta qui la chiave di lettura della trasformazione che avverrà per il capricorno nel mese di giugno 2020 voi che siete stati per tanto tempo radice quindi fermezza ma una fermezza sottoterra quindi invisibile nelle sue dinamiche all'occhio dell'altro all'improvviso spuntate fuori e decidete che di quell'albero volete essere rami volete stare con gli altri ma non vi potete muovere proprio perché l'abbiamo detto all'inizio vi siete radicati troppo e questo cambiamento totale non può venire dall'oggi al domani l'unico modo che avete per stare con gli altri è attirarli e come fate ad attirarli cercando di farli avvicinare a voi e la prima cosa che potete fare è porgere la vostra mano quindi cari capricorno fatemi sapere se questo messaggio risuona con i sentimenti che state vivendo in questi giorni grande desiderio di entrare in contatto con il prossimo io vi ringrazio per la vostra attenzione vi saluto e vi abbraccio tutti e vi abbraccio tutti e vi abbraccio tutti e vi abbraccio tutti grazie a tutti grazie a tutti